Continua a passo spedito l'azione dell'autorità di sistema portuale dei mari Tirreno Meridionale Ionio nel mettere in atto il proprio programma infrastrutturale che cambierà il volto del porto di Crotone al fine di valorizzare e ampliare le funzionalità e i servizi offerti dallo scalo. Inseriti in un'ampia ed articolata attività progettuale dell'ente guidato dal presidente Andrea Agostinelli, mirata alla riqualificazione ambientale dell'infrastruttura portuale, sono stati conclusi i lavori di prelievo dei campioni di sedimento dei fondali del porto di Crotone, propedeutici alla caratterizzazione e così all'attività di dragaggio dei fondali portuali. Iniziati lo scorso 24 settembre, in otto giorni di attività è stata abbattuta l'intera costa di fronte lo scalo cittadino, lungo la quale sono stati prelevati 363 campioni di sedimento al fine di effettuare 64 sondaggi ed avere così una approfondita campionatura per eseguire in modo esaustivo le analisi di caratterizzazione. Si tratta di un'operazione di straordinaria importanza per l'intera città di Crotone, che ha visto sinergicamente operare insieme anche a bordo della nave, l'autorità di sistema portuale con la ditta incaricata e l'agenzia regionale, o meglio l'ARPACAL, che effettuerà su una percentuale di campioni prelevati le proprie analisi, i cui risultati saranno successivamente confrontati con quelli dell'ente, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, che ha contribuito a definire l'intero progetto con l'obiettivo di determinare, in base a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, la più dettagliata analisi, anche in modo celere. A sostenere le operazioni, naturalmente, la Capitaneria di Porto di Crotone e il generale Emilio Enrico, commissario straordinario del sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, Cassano e Cerchiara. Finita questa fase, si punta ora al passo successivo, che vedrà l'ente impegnato a progettare la migliore soluzione tecnica per la gestione dei sedimenti, al fine di avviare le attività di degraggio e segnare così un alto traguardo nella concreta politica di risalamento e rigenerazione ambientale dello scalo portuale di Crotone.